Infreddolite ma coriacea, tutto sono le mogli degli ex operai dell'indotto dallo stabilimento Eni di Gela, stanche e deluse di ascoltare solo promesse allo stato attuale, mancano i fatti e ieri sera in Piazza Umberto I hanno promosso una fiaccolata simbolica sotto l'albero di Natale. Non siamo invisibili e non perdiamo la speranza, hanno detto. Gli ammortizzatori sociali sono oramai scaduti da mesi e aumentano i padri di famiglia che sono in difficoltà. Il lavoro è dignità, vogliamo che i nostri mariti tornino a lavorare. Questa fiaccolata è la fiaccolata del silenzio contro il silenzio, perché noi vogliamo lavoro, non ce la facciamo più, vogliamo risposta. Ci sono operai, persone che hanno disagi, una Gela in cinocchio, una Gela disperata, vogliamo risposte, solo risposte da parte dell'istituzione, dei politici locali, regionali, da parte della Chiesa, da parte di tutti. Basta più, non ce la facciamo più. Vogliamo soltanto lavoro per tutti, non solo per l'indotto. Abbiamo finito pure gli ammortizzatori sociali e quindi chiediamo che almeno ci ridiano il nostro posto di lavoro. Vogliamo il lavoro, non vogliamo assistenzialismo, vogliamo il lavoro. Quando noi troviamo qualche lavoro al di fuori di Gela siamo costretti a peregrinare fuori, a lasciare la famiglia, i bambini e a lasciare tutto. Noi in questa città ci abbiamo creduto, abbiamo investito, abbiamo mutuo da pagare, abbiamo bambini che vanno a scuola e ci crediamo e vogliamo rimanere nella nostra città. Ho visto di giorno in giorno che stiamo andando sempre indietro di tutto, senza lavoro. È una disperazione questa. Una forma di protesta pacifica, quella scelta dalle donne, ma che potrebbe sfociare nei prossimi giorni in qualcosa di più concreto. Per dire basta ai silenzi di chi ci rappresenta e sta assistendo alla morte di un'intera città. Quella di ieri sera è stata una fiaccolata del silenzio contro il silenzio. Una città dove i negozi chiudono, una città semivuota, una città ostaggio della criminalità, perché ogni sera bruciano i ragazzi senza lavoro, senza futuro. Siamo disperati. Al sindaco chiediamo di venirci incontro, di aiutarci. Non vogliamo assistenzialismo, ma però vogliamo delle risposte. Vogliamo i fatti, vogliamo il lavoro. Il lavoro è dignità. Chiediamo solo questo, il lavoro.